Ci sono anche i 2934 bambini e ragazzi delle scuole paritarie cattoliche pratesi, tra gli allievi che nei prossimi giorni torneranno finalmente sui banchi. Dopo lunghi mesi di didattica a distanza imposta dall'emergenza Covid, il suono della campanella accompagnerà il ritorno nelle aule dei dieci nidi che insistono sul territorio pratese, 17 scuole per l'infanzia, 9 primarie e negli spazi delle medie e superiori del Conservatorio San Nicolò. Ma come si stanno preparando gli istituti per accogliere in sicurezza gli studenti? Siamo andati a far visita al Conservatorio San Nicolò, che conta circa 530 alunni, dall'asilo nido al liceo. Le porte si sono riaperte già stamani per i corsi di recupero. I banchi monoposto li abbiamo comprati già a fine giugno, quindi abbiamo comprato 300 nuovi banchi monoposto che ci permettono di avere tutte le aule in regola e di ospitare tutti i nostri iscritti. Senza dover fare né turni né diminuzioni di orario. Siamo riusciti anche, riutilizzando i banchi biposto che avevamo alle medie al liceo, che ci danno la distanza lineare di un metro e venti, li usiamo alla mensa e adattando altri locali per la mensa, riusciamo anche qui senza far turni a tenere tutti i bambini e i ragazzi delle medie che frequentano il doposcuola a mensa. Abbiamo fatto ingressi diversificati, diversificati come accessi, utilizziamo quattro diversi cancelli di ingresso. Altro capitolo, i grandi spazi esterni, che saranno utilizzati sia per l'intervallo che per alcune attività didattiche come musica e scienze. Sappiamo benissimo che il rischio zero non esiste, però stiamo cercando di minimizzare il rischio sanitario perché siamo consapevoli che non è che se rimangono a casa non corrono un rischio, c'è un rischio educativo altissimo. Lavori in corso anche all'Istituto Maria Immacolata di Via di Cantagallo che ospita al suo interno 220 bambini tra materna e primaria. Anche qui sono state attivate tutte le misure di sanificazione del caso. I piccoli potranno accedere alla struttura da ingressi diversi mentre gli orari resteranno scaglionati come già avveniva sostanzialmente prima dell'epidemia da Covid. Il servizio mensa verrà erogato per turni mentre l'attività motoria sarà svolta sempre nella palestra al chiuso di cui la scuola dispone. La materna riaprirà il 3 settembre, la primaria il 7. Ma come si affronta questa delicata fase? Non cerchiamo di creare panico, per cui valutiamo situazione e situazione e cerchiamo, e secondo me questa è la sfida più difficile, di trasmettere una scuola serena. Questo secondo me è l'aspetto su cui dobbiamo lavorare molto perché i nostri bambini ne hanno piano diritto.